La sfida che tutti aspettavano, Chalepum contro Cristian. Chalepum, il fratello maggiore, colui che gioca da lontano FIFA 2014. Cristian, il fratello minore, colui che piano piano sta imparando a diventare più forte del fratello. Una sfida che negli anni ha sempre avuto un vincitore. Parliamo di tre anni fa, con la prima sfida su FIFA 20, la grande sfida Napoli-Uwe su FIFA 21, fino ad arrivare alla penultima sfida su FIFA 22 e quest'ultima. La sfida tra fratelli, con in palio 200 euro per chi vince questo match su FIFA 23. In questa partita veramente è successo di tutto. Che vinca il migliore è buona visione. Eccoci qui ragazzi, siamo nel grande game. Cristian contro Chalepum su FIFA 23. Io ci sono, Enzo Massimo 0-1 c'è. Nosso trattino basso, Chris c'è. E oggi ragazzi ci sfideremo in una sfida che, come gli altri anni, cambia sempre di FIFA in FIFA. Ma questa sfida è del particolare, perché come avete visto dalla intro, oggi ci andiamo anche a giocare 200 euro. Fammi sentire. Una partita secca. Chi vince questa partita vincerà 200 euro. Non impegnarti perché li devo vincere io questi soldi. Non perdiamoci in chiacchiere ragazzi. Tanti like, almeno 10.000 mi piace per altre sfide. Iscrivetevi al canale, arriviamo insieme ai 500.000 iscritti. E caro Cristian, che vinca il migliore. Esatto. In bocca al lupo. Vai. Io scelgo Napoli FC. Quest'anno in Napoli non è ufficiale, su FIFA. Cammo fa. Az. Napoli Milan. Napoli Milan. Mamma, guarda che maglie. Oddio. Però non lo posso fare se hai girato giro. Io metto la classica. Io metto l'azzurra. Non ufficiale. Ragazzi, la mia formazione è Magnani in Porta. Tomori, Kalulu, Calabria e Teo Hernandez. Questo è un modolino. Tonali, Benazer e Brian Diaz. In attacco, Leao, Sigirato Giroud e Messias. Beh, bella squadra. Complimenti. La mia gioca a specchio. Commeret di Lorenzo, Racamani, Kim Mincè, Mario Rui, Lobotka, Anghissazzerischi, Politano, Vichak, Varaskelia e Victor Osimena. Come fai il centrocampo secondo me? Eh, mo vediamo subito. Ci siamo. Napoli, Milan su FIFA 23. Sfida tra fratelli. Sciale e bomo contro Cristian. Ah, guardate che bello, ragazzi. Questo Milan è un ufficiale, Calabria e purtroppo è Napoli che... Non so chi cazzo sia questo. Eh, infatti c'è. Chi è? Così bene. Così bene che non ne è uguale. Guarda, Schnelli non ne è uguale. Ci siamo, ragazzi. Si inizia. Napoli, Milan su FIFA 23. Oh, frate, non vale. Oh, frate, non vale. Oh, porca puttana. Che è successo? Che è successo? Mi sono cagato sotto. Oh, questi calci d'angolo mi fanno paura, sinceramente. Via sta boccia, via, 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 zambò. Zambò. Mannaggia, capricchia lei. Io Cristiano mi ha sempre fatto paura. Oh, vrido, no. Ma... Oddio, mi sta rendendo qualcosa. Calma, Napoli, calma. Tu sei una grande squadra. Hai saputo dimostrare grandi cose. Dai, ma io sui man. Vai, io sui man. Sì, mettila in mezzo. Politano! Ehi. Bravo, bravo, bravo. Ci abbiamo provato. Il Napoli c'è, il Napoli c'è. Dai. Vai. No, rientro passaggio, frate. Mannaccia, capri gallina. Qui ci si gioca una casa, eh, ragazzi. Ci si gioca pure la vita. No, 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 eh, cazzo. Ecco. Gole. Porca puttana! Dai! Oddio, come mi sono salvato. Dai, Enzo, ma dove ti stai salvando? Ho preso pure una traversa. Osimè, no, in mezzo. No, in mezzo, Osimè! Qui ho sbagliato. Eh, dai, che mancano pochi short. Beh, sub. Dai, che mancano pochi short. Bravo, Stanislav. Osimè! A giro! Che gol! Che gol! Vittor! Osimè! Un tiro in porta. Un a zero Napoli! Un a zero Napoli! Vittor ha segnato! Osimè! Andiamo! Ma sei l'amma? Andiamo, ma non è finita. Ma sei l'amma? Ma guarda il gol che ha fatto. A giro! Bello. Vum! Bel gol. Non può pararla, maagnano. Un a zero per chale e boom. Bel gol. Sta zitto, bambino. Oh, ma stai zitto. Voglio vedere che se fa. Ne hai fatto niente da sta partita. Bravissimo, Mario Rui. Dagli alla zambo. Osimè! Maronna mia! E' l'uomo pericoloso oggi, Osimè, eh. E' l'uomo pericoloso, frate. Ti stavo accorto. Ti stavo accorto! Oh, Vittor! 2 a zero! Osimè! No! Aspetta, ma che senti? 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 Sentiamo già l'uomo pericoloso. Ma che senti? Andiamo, ma aspetta. Andiamo, andiamo, andiamo. Aspetta, aspetta. 2 a 0 dai ragazzi. Aspetta. Mamma mia. Vittor, l'ho detto che è l'uomo pericoloso. Vittor, sei di loro. Ossimè, ma non esultano. Andiamo, 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 andiamo. Aspetta. Andiamo. Ma ci c'è la verità, con Milano stavo con un po' che pezzo in culo. Per Politano, Matteo, Politano. Mamma mia. Madonna, 3 a 0, primo tempo, frate, ti ripopo a cucca. Ma ce l'ho provato però. Ecco, mazza. Ecco, mazza, meretta. Eh, ma tu, tu che ti non mazza. Non ho niente, fra. Non ho proprio niente. Hai capito come ti stai salvando? Ma sto vincendo merita. Oh, fra. Bravo, meretta. Finisce il primo tempo. 2 a 0 doppietta di Vittor. Sto giocando meglio io. Osimèn. Vada là, sto giocando meglio io. All'inizio, però sto sciattando a capo. Continuiamo, andiamo col secondo tempo, ragazzi. Ma c'è Kim. C'è un cazzo. Oh, ne, te l'ho detto. Non è finita. C'è Benasser. Non ci volevo assolto. Che hai fatto così? Ma che hai fatto? Aspetta, stai calmo. Guarda lì. Guarda lì, Solis, cazzo. Stai calmo. 2 a 1. Stai riaperta a partire. È ancora riaperta, vai. E fallo. Fallaccio. L'ha chiamato tre ore dopo. Ma come cazzo si tira in sti punizioni? Ma vuoi a dire? Ma te lo faccio un berro. Il maestro Mario Rui. Madonna. Ma mamma mia. Che cazzo hai fatto? Mario Rui. Madonna, ragazzi, però, eh. Non va bene così. Aspetta. Cazzo hai toccato una palla. Kim? Ho toccato una palla. Guarda che cazzo è. Vabbè, si tocca nella realtà. Eh, qua mi sono addimentati. Mi ha fatto un partito, Kim, eh. Mannaccio si meno. Oh, però, ma sbagliano tutti i passaggi. Cambio. Cambio si meno. No. No. No, non lo vuoi far uscire. Ma hai giustato? Ma hai giustato? Ma hai giustato? Ma non ho giustato? Aspaduri, vai. Un po' di forze fresche. Aspaduri è lo sano. Lo cazzo vai. Eh, ma che fai? Giugatemi. Ma tutto. Un re, bitch. La venne con la cosa. Stai zitto. Che cazzo ho fatto? Che cazzo ho fatto? Ho fatto la cazzata. Kim? No. Ma che cazzo ho fatto? Dai. Oh, fratello. Vatta la cazzata. Non posso. Messias. Messias. 2-2. La rimonta. Messias. Guarda lì che azione. Pam. Che mazza. Pam. 2-2. Guarda che partita. Bello, bello, eh. Cazzo. Mannaggia. Capara Schelia. Mi stanno sbagliando tutti i palloni. Ua, Meret. Miracolo. Meret. No, Enzo. Enzo, quanto sei sculato? Fra, non ti permette. Fra, non ti permette. Non ci credo. Fra, sto sulle maniche in una maniera esagerata. Te lo giuro. Eh, fra. Va, da fare una cagata, va. Eh, bo. Supplementari. Supplementari, sì. Forca Pizzera. Oh, mamma mia. Sono dittanzano. Sono giù. Oh, mamma mia. Iniziano i tempi supplementari, ragazzi. Squadre stanche. Non la sto prendendo. Ti riprimo. Giacomi. Maronna mia. Madonna. Giacomo. Raspadu. No. No. Ma che cazzo fa? Era tutto ciolito. Ma era brutta. Ma guarda Calabria. Guarda Calabria. Non ha mai giocato a pallone nella sua vita a levare la palla più bella del mondo. No, Enzo, Merico. Io non li so attirate. Eh, dunque, io per io. Ci metto la dombelella con mezzo. Lì, io tovo a loro in cilio. Che cazzo è successo? No, ora mi dovete spiegare cosa cazzo è successo. No, no. Sono scesa, le valle nei calzini. Sono scesa, frate. Vai, cazzo. Tu ti no culo rotto. C'hai il culo rotto. Eh, perché tu no, capì? Mamma mia. No, non li so tirare, Enzo, no. Ma io ho perso. Hai visto che sto boiato? C'è se te. Ma io ho perso? Ciao. Ho perso pure io, fra. Ciao. Ma boiato, tiriamo sti ricordi. Sti ricordi. Ma come so tirare? Ma come so tirare? Non lo so. No, mi hai visto? Ma che ti ho visto? Ma come ti tirsi di colore? Non so come sto tirando. Ho spagato. Ma ne so tirare, Enzo. No, ma guarda come perdo. Ok, tu che te credi? Che stai a scelirare? Guarda scelire, mi ha rotti i coglioni oggi. Da questo non ha segnato. No, ma voi me li vieni. Tu parla con un occhio sotto, ma c'è fra. No, le ha. Se segni hai vinto. Il lì è la ciotta, guarda. La ciotta è la povera oma. La ciotta è la povera oma, tu chi ne. Hai capito o no? Tango e tango. E' la ciotta è la povera oma, non bene. E' para, para. No, Enzo, iner... C'è la faccio giù, quando finisce? Ho perso. Sto piangendo. No, l'ho piazzata, frate. L'ho piazzata. Ma come si fa? Come si fa? Ma questo magari non ce l'hanno, frate. Rimonta completata. E i soldi sono miei. Mone, 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 mone. Vuoi tornare? No. Sono i miei. Calabria. Ehi, cianni, cianni. Stavo partendo in mano. Olè. Ehi, ma che culo robo. Allora, Enzo, io ho detto... Ma te, i rigori, no? Io l'ho persata. Io ho detto, vabbè, ho perso. Stavo quando stavo perdendo 2-0 sui rigori, poi l'ho rimontata. Come la mi c'è? La squadra Milan vince. Scrivere i commenti di chi ha meritato sta partita. Io ho pure... Secondo me tutti e due. Abbiamo fatto tante azioni. Però, chi è che ha vinto? Oh. Scappo. No, no, no. Dove scappi? Beh, che dire, eh. Complimenti a Cristian per aver vinto questa sfida tra fratelli su Figo 23. Allora, stavo perdendo 2-0 in partita normale. Poi sui rigori stavo perdendo 2-0. Esatto, non sei capito niente. L'hai rimontata tutto e tutto. Ho rimontato. Grazie, grazie. Complimenti, complimenti. Prenditi i tuoi 200 euro. Cosa ti comprare con questi 200 euro miei? FIFA Ponses, troviamo Ronaldo. Ragazzi, lasciate un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale. Questo video finisce qua. Devo dire, bella partita. Bella partita, però. Bellissimo. Ci siamo divertiti, siamo stati veramente assadrati da questo game perché è stato bellissimo. Quindi, tanti like. 10.000 like per prossime sfide. Sì, sì, ragazzi, mi raccomando, dovete supportarci al massimo. Quindi, da me, da Cristian, da questa sfida tra fratelli su Figo 23, tutto. Noi ci diamo nel prossimo video. Ciao, io. Ciao, ragazzi. Andata male, andata male, andata male. Cotto. Cotto, cotto.